Samuel Johnson Junior! È con noi il figlio del presidente! SEMI IN ARRIVO! Vedete questo orologio? Ti dà la tua posizione esatta! Andiamo! Seguitemi! E voi chi siete? Cosa mi hai messo addosso, signorina collo lungo? Idiota! Cercavamo di aiutarti! Eh, guardatelo! Va tutto bene, piccolino? Dove ti fa male? Kim! Tranquillo! Kim! Eh? Lo potresti fare più tardi? Questa roccia è pesante! Analizzando l'area dell'impatto, abbiamo scoperto la presenza di organismi viventi tra i rottami. Si dice che colui che sente la voce della natura è l'unico che può salvarla. Ciao, ape! Dove stai andando? Davvero? La Terra mi ha detto che dobbiamo smettere di nutrire le bestie di fuoco. Staccate l'energia! E le bestie spariranno! A tutte le unità, prepararsi all'attacco! La Terra è in pericolo. Non lasceremo che il mondo finisca così! Ecoplanet, un pianeta da salvare. Dal 18 luglio, al cinema.